Ahahahah! Presto anche voi, maledetti chiudiporte! Vi unirete alla fine del mio esercito! Non credo proprio! Ehi, guardia! Presto Ladybug e Chat Noir dovranno affrontare il loro destino. Anche noi diventeremo cavalieri! Oh! Per la palla! Lucky Charm! Eh, ok! Speriamo che soffra il solletico. Non questa volta! Ah! No! Oh! Ahahahah! 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 Ladybug ha sconfiggio il mare! Presa! Ciao, ciao, farfallina! Miraculous Ladybug! Ben fatto! Devo scappare, scusa! Ehi, non vale mettere in gioco le specie estinte! L'ultimo tirannosauro è scomparso molto tempo fa, ma in teoria è sempre un animale. Se non ci muoviamo saremo complici dell'estinzione di altre due specie! Il gatto e la coccinella! Che possibile! Non ti muoviamo! Non ti muoviamo! Ehi! Anima! Lucky Charm! Eh? Sbaglio o è un Crick? Peccato che Anime non abbia nessuna gomma a terra. Guarda come sono corte le sue braccia. Non deve essere molto bravo, Basket. Dove vuoi arrivare? Se ti arrampichi sulla sua schiena, non potrà prenderti. Ma così lo distrarrai e io avrò campo libero. Mi piace il tuo piano. Sono bravo ad attirare l'attenzione. Non possiamo sbagliare! E' strano che non lo abbiamo usato. Che cosa significa? Forse è perché siamo troppo forti. Oh! Shanoir, aspetta! So cosa dobbiamo fare. Ladybug! Buon appetito, T-Rex! No! Vagherai per quello che hai fatto! Vogliono tornare ancora indietro nel tempo! Lucky Char! Qualche idea? Mentre cercate di capirlo, io guadagno tempo. Stai pensando quello che penso io? Ma certo! Cataclipa! Dai, blocchiamola mentre passa! Stiamo andando troppo veloci! Non possiamo fermarli! Adesso! Niente più male fatte, piccola alboma. Ladybug sconfigge il mare! Presa! Presa! Ciao, ciao, farfallina! Miraculous Ladybug! Ben fatto! Aspetta! Grazie a tutti.